Buongiorno a tutti qui è Arduino Schenato da YARForex.com e in questo video voglio andare a mostrare come utilizzare al meglio il grafico daily e 4 ore in mix allora io ho una concezione della price action che non è la classica che si sente in giro e quindi in linea di massima, in linea generale non vado a fare trading sui segnali che si formano sul grafico ma vado a fare trading su un mix di elementi che prendono dall'analisi della domanda e dell'offerta che c'è sul mercato su grafici ad alto time frame come il grafico settimanale da qui capisco che tipo di volatilità c'è sul mercato, il trend del mercato e poi alla fine cercherò su grafico giornaliero di trovare appunto quelli che io chiamo trigger e quindi i punti dove cliccare, dove andare a posizionarsi e quindi diciamo che il segnale di trading che ci viene dato principalmente da un grafico giornaliero è il trigger non per questo però chi fa price action in modo avanzato come noi di YARForex tradiamo per forza il segnale per sé ma andiamo a cercare delle conferme del segnale quindi diciamo che in linea di massima noi cosa facciamo? noi andiamo a fare trading sulle conferme delle conferme delle conferme quindi ogni volta che abbiamo un setup che si crea deve essere in linea con la nostra pianificazione settimanale e una volta che è in linea dobbiamo capire il trend che c'è, la volatilità e se quel trigger si è creato nella giusta volatilità e nei giusti livelli di domanda e offerta ma questo non è il topic di oggi perché non parleremo dello studio appunto della big picture su grafico settimanale quindi lo studio di queste tre cose molto importanti ripeto come domanda e offerta, trend e volatilità ma andremo a capire come gestire, come andare a vedere le conferme del mercato che ci arrivano su grafico giornaliero allora ho preso il grafico di sterlina dollaro ma potrei prendere qualsiasi altro mercato tra i principali e in questo caso sottolineo mercati principali quindi mercati che hanno scambi giornalieri hanno dei volumi giornalieri importanti diciamo che le 6-7 coppie di valute sono molto liquide quindi meglio prediligere mercati che abbiano una alta quantità di scambi durante il giorno per esempio sterlina dollaro sappiamo che è il terzo cambio forex più scambiato al mondo ogni giorno ma potremo inserire euro-dollaro, dollaro-yen, questi qui Australia eccetera allora in questo caso andrei a prendere 2-3-4 esempi dell'ultimo mese e mezzo mese su questo cambio perché se noi andiamo a prendere senza fare uno studio come ho detto prima dedicato appunto allo strumento quindi su time frame più grande eccetera ma qui voglio focalizzarmi proprio esclusivamente sul segnale in sé cioè se io vado a prendere questo tipo di mercato e quindi prendo il downtrend che c'è qui e l'uptrend che c'è qui noterò che ci sono dei segnali di trigger di price action che prendiamo questi 3 qui, questi 4 qui che possono portare a decidere di aprire una posizione short qualora si verificano ecco io la cosa che faccio quando si viene a creare un certo tipo di situazione di questo tipo e che ovviamente deve essere in linea col piano settimanale ma che ci potrebbe dire che imminentemente può avvenire un movimento direzionale dei prezzi non vado a poi tradare il segnale in questo modo come vedrete riesco a primo avere una conferma in più e spesso avere uno stop alle perdite quindi un rischio sul mercato molto molto minore spesso la metà a volte anche meno o comunque sempre meno di uno stop di volatilità su grafico giornaliero che per quanto è interessante ma poi nel rapporto di rischio rendimento del lungo periodo diciamo che è un po' più carente invece avendo ovviamente meno pips di stop loss è ovvio che se si riesce a prendere un movimento importante si riesce a fare magari un ricavo rispetto al rischio preso che sicuramente influenza di più poi i risultati a fine anno in modo positivo e quindi riuscire anche a rimanere in piedi magari quando abbiamo più stop loss consecutivi o c'è una situazione magari qualche mese che può essere più negativo quindi in questo caso diciamo è molto importante poi lavorare di risk reward ed è per questo che con le conferme a 4 ore si può veramente migliorare noi nel Platino e in Airforex cosa facciamo? quindi andiamo a confermare i trigger che ci sono sul mercato ma una volta che abbiamo i trigger non tradiamo direttamente lì quindi attendiamo con pazienza che durante la giornata ci siano delle conferme non per forza di segnale operativo di quelli che utilizzo, di quei 3-4 che utilizzo ma anche esclusivamente una dinamica una dinamica che conferma magari la debolezza o la forza di quel determinato mercato allora prendiamo un attimo la prima parte quindi andiamo a vedere questo reversal che c'è qui quindi il giorno 10 giugno successivamente abbiamo una barra molto molto negativa quindi che si è venuta a creare l'11 di giugno allora io vado a segnarla in questo modo l'11 di giugno così che vado su 4 ore e vi faccio vedere eccolo qua 11 di giugno che parte da qui e fa tutto un movimento short quindi durante questa giornata praticamente è stato convalidato il segnale con il breakout del minimo e c'è stata una continua quindi una verticalità nei prezzi senza mai avere una possibilità di entrare perché non ha mai swingato quindi non ha mai fatto un swing high quindi un massimo di swing è stato sempre buttato giù e non abbiamo avuto nessuna opportunità allora cosa succede? nel momento in cui io poi a fine giornata boom ho una barra di questo tipo è ovvio che aspetterò dei nuovi input per cercare di shortare nuovamente il mercato se ci saranno appunto i presupposti sul daily quindi io nel momento in cui ho un trigger come in questo caso non è che vado a fare la vendita vado a cercare una conferma la conferma può essere fatta anche 1, 2, 3 giorni successivi anche 4 può succedere ovviamente nel caso in cui subito il giorno successivo c'è un movimento fortissimo, estremo diciamo nella direzione che volevamo prendere è ovvio che a fine giornata questo è un movimento che è già avvenuto e non vado poi a ricercare delle conferme a 4 ore quindi questa è la prima cosa quindi sto fermo e aspetto un nuovo possibile trigger ecco che nel qualche giorno dopo sempre nello stesso grafico ecco qui ci troviamo di fronte a una nuova pin bar di bassista che ci può dare appunto l'entry e in questo caso andiamo a prendere anche qui questa situazione quindi questi due giorni perché vedete il primo non è tanto volatile quindi se è così e non ci ha dato nulla questo giorno si può aspettare appunto il giorno successivo quindi 17 e il 18 di giugno ci poteva essere qualche conferma andiamo a vedere ecco qua ed ecco che troviamo 17 e 18 di giugno vedete che il mercato eccolo qua 16 e 17 il 17 inizia dopo il segnale al su grafico giornaliero inizia guardate la notte fa questo poi abbiamo sempre 17 alle 9 dalle 9 alle 13 poi abbiamo dalle 13 alle 17 poi guardate abbiamo un cluster inside quindi una dinamica di tenuta della zona bassa quindi tenuta della debolezza di questo mercato cioè non c'è stato un vero e proprio input rialzista con una volatilità che ha fatto ripartire i prezzi su ma c'è stato addirittura un cluster inside eccolo qua quindi una compressione di volatilità che addirittura portava sempre più giù quindi in questo caso ci poteva essere una conferma di trading short andando a colpire il sell proprio sotto questo livello con uno stop ridicolo perché si poteva mettere uno stop sopra un 26 direttamente su quest'area in questo caso vedete che il movimento è stato subito repentino poi c'è stato altro cluster inside però attenzione perché poi quando la volatilità aumenta troppo è facile che giri o che si fermi nel mercato quindi una volta che fa questo si può già decidere di spostare il proprio stop a break even una volta che fa il swing high eccolo qui e porta giù si può decidere di spostarsi così poi in base a come avevamo messo il target e questo non è il topic non è il target di profitto che viene utilizzato guardando i livelli chiave principali più le estensioni di fibonacci con i numeri chiave in linea di massima col numero aureo del 61,8 ma questo non è il tema di oggi quindi poi se nel caso si fosse andato a mettere un target per esempio su questo livello su questo livello o nel caso in cui si fosse messo più sotto è ovvio che poi nei swing si va magari a spostare lo stop e quindi comunque a fare un trailing profit manuale e come vedete la gestione è stata sui swing a 4 ore e l'entrata su 4 ore ma con l'input daily quindi mai io faccio una entrata diciamo con un conferma a 4 ore cioè a 4 ore nel momento in cui il giorno precedente o nei 2-3 giorni precedenti non c'è stato un segnale di trading sul daily se non c'è il daily non c'è 4 ore questo è importante poi eccolo qui questa è un'operazione che tra l'altro vedete anche in una operazione che ho fatto in una delle ultime operazioni che ho fatto nel diario di trading eccolo qua vedete che il 24 di giugno c'è stato un doppio massimo lower non sono entrato neanche qui direttamente sul daily ma ho aspettato la dinamica a 4 ore in questo caso il 25 di giugno eccolo qua abbiamo eccolo qui il 25 di giugno era qui quindi c'è stata questa dinamica sempre cluster inside quindi movimento di tendenza e cluster io addirittura qui ho fatto un trade tra l'altro condiviso sul gruppo del platino sono venditore su quest'area lo stop l'ho postato proprio direttamente qui sopra e poi ho gestito la situazione andando a spostare il mio stop e in realtà poi a chiudermi diciamo intorno a quest'area perché c'era un'estensione di target dei miei appunto un'estensione di quelle di Fibonacci che utilizziamo spesso come target diciamo di profitto e quindi in questo caso vedete non ho tradato magari la rottura daily che era qui con uno stop qui ma avevo uno stop che era addirittura meno della metà e quindi sono riuscito a performare con un RR molto interessante avendo in più una conferma quindi che cosa ci dà questa cosa ci dà conferma più RR interessante per ultimo poi anche se questa non andava tradata per ovvi motivi ma per farvi capire com'è importante avere le conferme e quindi in questo caso questa non era proprio una pin di quella da tradare avevamo una volatilità un certo tipo di disegno grafico che non ci confermava proprio uno short ma metti caso che volevamo farla ecco che il giorno dopo nei due giorni due giorni dopo perché dopo viene rotta al rialzo quindi viene fallita posso andare alla ricerca di segnali short quindi il 3 luglio e il 6 luglio ovviamente non abbiamo fatto niente perché sia il 3 che il 6 luglio allora ebravamo qui 2 eccolo qui vedete che il 3 si poteva al massimo guardate creare un ordine su questa barra outside bar di continuazione ma comunque si sarebbe posto l'ordine alla rottura del minimo con stop sopra il massimo il mercato comunque è salito e non ha mai dato vedete delle conferme short reali su questo mercato facendo sempre delle piccole piccolissime candele senza mai avere una tendenza short e quindi in questo caso la dinamica era una dinamica non short ma neanche long era una dinamica di confusione non c'era una dinamica chiara e quindi comunque non si fa nulla anzi addirittura poi ha rotto al rialzo e ha creato i presupposti per fare un movimento ulteriormente rialzista verso i massimi potrei andare avanti per ore ma tanto per farvi capire il tipo di cose che vado a cercare sui time frame a 4 ore questo tipo di modalità operativa è ovviamente una modalità operativa che ci contraddistingue nella nostra price action e quindi sono cose che facciamo vedere anche con le nostre operatività reali i nostri conti reali durante la scuola platinum perché crediamo che la pratica sia molto importante nel momento in cui si impara quindi vedere sì la teoria ma vedere anche la pratica in reale quindi per finire qui facciamo la vera price action siamo stati i primi in Italia a diffondere questo tipo di metodo siccome in giro vedo tanta spazzatura che viene chiamata price action ricordatevi di diffidare dalle imitazioni io a questo punto vi saluto vi auguro un buon trading simple e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti